Musica Scoperti dai finanzieri del Comando Provinciale d'Imperia, 2215 lavoratori in nero alle dipendenze di una falsa Ollus, in realtà una vera e propria azienda specializzata nell'insegnamento dell'inglese nelle scuole tramite docenti madrelingua reclutati all'estero. La società, camuffata da associazione di volontariato, ha impiegato persone inquadrabili a tutti gli effetti come lavoratori subordinati ma senza alcun contratto di impiego, pagandoli completamente in nero ed evadendo imposte e contributi previdenziali. I docenti extracomunitari venivano reclutati attraverso inserzioni sui siti web dell'associazione che dopo la selezione dei singoli curriculum vite e books fotografici individuava i profili più adatti. Ricavi non dichiarati per 12 milioni di euro e sanzioni previdenziali fino a 14 milioni, le contestazioni di cui dovranno rispondere i responsabili.